Ecco, questa volta quando ho dato il titolo alla nostra rubrica, che di per sé emane lo viscum in generale, ma poi ogni volta diamo un piccolo sottotitolo, chiamiamo, e l'ho dato in lingua latina, come potrete vedere, e allora il nostro regista Vladimir è andato un po' a spulciare nei suoi studi antichi di latino per cercare di capire cosa poteva voler dire Pax Tibi Marce Evangelista Meus, questo poi non c'è, Pax Tibi Marce, Marce è il buon San Marco Evangelista, si racconta, è una tradizione, che San Marco quando stava andando verso Venezia e sbarcando udì una voce, una voce dicono di un angelo, ma che poi in sé è la voce stessa di Dio, che si rivolge a lui con tanto affetto e gli dice Pax Tibi Marce Evangelista Meus, sia pace a te Marco che sei il mio evangelista, cioè che hai raccontato bene di me, che hai raccolto bene la testimonianza su di me, ecco questa è una frase classica diremmo e tocca soprattutto poi il rapporto con la città di Venezia, perché sappiamo che San Marco è patrono di Venezia ed è legato proprio alla storia di Venezia, di fatti il leone di San Marco, così detto questa figura appunto classica di Venezia, porta una vangelo in una sua zampa diremmo, con scritto proprio questa espressione, quindi il legame tra San Marco e Venezia data veramente dall'antichità. È bello toccare questa figura, perché? Perché entriamo in questo periodo dell'Avvento e quest'anno sarà proprio l'Evangelista San Marco che ci accompagna nel nostro percorso, non soltanto dell'Avvento ma di tutto il nuovo anno liturgico. E allora intanto Don Giovanni prima di toccare un momentino qualche nota su questa figura dell'Evangelista Marco e sul Vangelo che lui ci ha consegnato. Intanto entriamo in un nuovo anno liturgico, qualcuno dirà è turnare capo, saranno la stessa roba, è la stessa frittata che viene fatta tutti gli anni. Ecco il fatto di riprendere, di ripetere, di rivisitare, direi che non dovrebbe essere un fatto semplicemente affidato a un'abitudine che è stanca ma dovrebbe essere una ripresa invece che direi rinfresca. Beh, l'anno liturgico è Gesù con noi cristiani, con noi uomini. Uso due immagini, cioè praticamente è un girare su noi stessi come un cerchio, però servo anche un'altra immagine come una trivella, cioè pian piano questo cerchio va avanti, penetra e dovrebbe pian piano fare in maniera che Gesù diventi l'amico della nostra vita, della nostra storia. Quindi Gesù è sempre quello ieri, oggi e domani, ma siamo diversi noi e lui vuole camminare con la nostra storia e quest'anno specialmente ascoltando Marco che è patrono di Venezia e anche di Vertova della mia parrocchia, noi abbiamo una bella statua e lo festeggiamo sia con la fiera e anche con la Santa Messa, il Vangelo, il 25 appunto di aprile. Ecco, avvento, avvento parla di veglia, parla di attesa. Ecco Don Giovanni, noi entriamo come cristiani appunto in un tempo che ci porterà verso la celebrazione del Natale del Signore Gesù e viviamo quindi anche il senso dell'attesa, l'attesa intanto di un fatto che è già avvenuto storicamente chiaramente, di un'attesa anche di un Dio che si fa presente costantemente nella nostra storia, di un Dio che tornerà difatti nella liturgia della Messa, noi continuiamo a ripetere nell'attesa della tua venuta, cioè del tuo ritorno glorioso. Ma non è che tante volte rischiamo un pochettino di utilizzare delle parole che sono un po' lise, che hanno perso un pochettino della loro valenza, del loro bel colore, quando noi diciamo attesa. Pensiamo un pochettino oggi la fatica o l'incapacità addirittura anche dentro le cose quotidiane, pensiamo ai ragazzi stessi, così di attendere e quindi un pochettino anche di cominciare un po' a rallegrarsi di qualcosa di bello, di qualcosa che è annunciato, di qualcosa che arriverà. Si rischia un pochettino di avere le orecchie basse attorno a questo argomento. Noi senza fare del pessimismo dobbiamo difenderci prima di tutto dalla mentalità consumistica, tutti parlano dell'avvento e praticamente tutti cercano di vendere il loro prodotto, però si rischia di fare un avvento e magari un Natale senza il festeggiato. Oggi è diventato un po' così un soprammobile, ogni tanto tirano fuori qualche statuetta, però del Signore che è venuto conoscono poco. Basterebbe sapere che non è una fiaba, è storia. Noi siamo nel 2023, dopo Cristo, ma chi è costui? Che praticamente ogni giorno nelle nostre parrocchie viene nell'Eucarestia, perché fra l'altro Betlemme, dove lui nasce, vuol dire casa del pane. Ogni giorno si nasconde nell'Eucarestia, nel pane e ti fa compagnia nel tavernacolo. E poi chi pensa che verrà? Adesso anche i ragazzi pensano andiamo a sciare, andiamo all'Orio Center, andiamo di qui senza essere troppo negativi, però sembra che il consumismo ormai abbia preso tutte le nostre festività, le nostre gioie cristiane le abbia un po' usate per fare i loro affari. Quindi dobbiamo stare molto attenti perché magari, essendo anche una minoranza, di non andare fuori tiro, perché rischiamo di parlare di avvento e di attendere cose che non c'entrano poco o niente con Gesù. In effetti c'è proprio questo tema, direi che è un fattore anche culturale, psicologico, cioè l'uomo d'oggi attende ancora alla capacità di questo spirito dell'attesa di qualcosa che, oppure forse anche la situazione che stiamo vivendo, le fatiche che ci sono, le realtà drammatiche anche nel mondo ci fanno dire ma probabilmente non c'è più niente o non c'è granché da sperare né per il domani né per l'oggi. Per cui il fatto proprio di attendere, che chiama ad alzare lo sguardo, che chiama ad aspettare un orizzonte che si apre, parlando cristianamente appunto in Gesù Cristo, ma anche umanamente qualcosa di buono, direi che questa luce dell'attesa rischia proprio di andare spenta. Beh, tutte queste cose sono dono di Dio, ma anche sforzo da parte di noi uomini, perché le cose belle il Signore ce le dona, ci dona ad esempio il sole, la neve, l'aria, però bisogna avere anche il tempo di guardarle, di contemplarne, di capirne il significato. Così anche oggi dobbiamo stare proprio molto attenti per non bruciare le nostre giornate dentro un sacco di cose, perché oggi la gente non ha più neanche tempo di pensare al domani, se mai pensa di andare a mangiare la pizza, di fare l'ultimo dell'anno, però queste cose un po' più serie, poca ci pensa e qualche volta dicono ma chissà poi dove sarà il Signore. Oh, il Signore è lì che soffre con gli uomini che non lo ascoltano, perché non dobbiamo adesso dire che il Signore fa la guerra in Ucraina o che fa la guerra in Israele o che non si interessa del femminicidio. Gesù dice cosa posso fare, non mi ascoltate e quindi tiratene le conseguenze, ma il Signore è lì e aspetta da noi una risposta seria. Quindi diremmo quasi un'urgenza supplementare, quella di un avvento serio, che è appunto attesa di un evento, che è certezza di una presenza, che è chiamata un coinvolgimento in una storia stupenda, che dovrebbe un po' sapere di salvezza e di pace, quindi ci auguriamo proprio che possiamo questo mese viverlo con questa disponibilità. Torniamo un pochettino al fatto appunto che in questo avvento e in tutto il nuovo anno liturgico che si apre, noi incontriamo San Marco evangelista. Intanto se ne sa qualcosa di più del titolo del Vangelo di questo San Marco? C'è qualche notizia anche che la storia o la tradizione ci ha consegnato? Beh, San Marco prima di tutto sappiamo che era figlio di Miriam e addirittura dagli Atti degli Apostoli sappiamo che lui e sua madre, che probabilmente era vedova, ha prestato la casa ai primi cristiani. C'è un fatto poi nel suo Vangelo che a 12 anni era un ragazzo coraggioso e curioso, la notte in cui Gesù fu arrestato nel Gezzemani si parla di un ragazzo che era andato a vedere e le guardie lo afferrano, lui riesce a scappare nudo lasciandogli, probabilmente aveva su un lenzuolo scappando via nudo, quindi sappiamo questo. Poi che è stato amico di Pietro, ma prima ancora di Paolo perché ha fatto anche un viaggio insieme con Paolo, poi a un certo punto sembra dalla storia che lui abbia voluto venire a casa da questo viaggio missionario perché la mamma non stava bene e lui ha detto vai a casa con tua madre e Paolo è andato da solo, allora diventa poi amico di Pietro da cui impara veramente anche a scrivere il suo Vangelo perché il Vangelo è ricchissimo di particolari, ad esempio ti dice non so com'era l'erba, era verde, quanta gente c'era, com'era la barca, questo vuol dire che qualcuno è stato testimone oculare, cioè ha visto quelle cose, non le ha solo sentite dire, non sono fiabe e ha scritto naturalmente il Vangelo che è il più corto dei quattro Evangeli, il più corto, ha solo 16 capitoli con un'idea fondamentale, lui non scrive niente dell'infanzia di Gesù e altre cose, con un'idea fondamentale che Gesù è il figlio di Dio, inizia così e poi sulla croce un centurione dice uno che muore così è davvero il figlio di Dio. Ecco qui verrei un momentino al fatto determinante perché il Vangelo di Marco come tu dici non si perde sulle faccente dell'infanzia di Gesù, parte subito proprio quando Gesù inizia la sua missione, con quell'espressione Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio, dove tra l'altro la parola Vangelo già di per sé stessa non vuol dire inizia il libro che parla di Gesù Cristo, perché la parola Vangelo ha un significato molto forte, buona notizia, per cui dicendo così Marco praticamente fa percepire che lui parla di Gesù Cristo che è la buona notizia, cioè il Vangelo non è semplicemente un libro che viene scritto e che raccoglie le parole e i gesti di Gesù, ma che vorrebbe dirci appunto che la bella notizia che Dio dice sulla storia è il figlio suo stesso e Gesù Cristo. Direi che qui appunto come accennavi c'è dentro un po' il cuore stesso di quello che Marco intende annunciare, annunciare una buona notizia, ma che è una buona notizia, che è una persona. È verissimo, la perla preziosa, il tesoro nascosto non è una filosofia nuova, una consuetudine nuova, un impero nuovo, è una persona. Praticamente la fortuna dell'uomo, la bella notizia, il Vangelo è Dio che si prende cura di noi per stare con noi perché poi terminerà dicendo io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo e ci ha indicato che quando noi ad esempio ascoltiamo la sua parola, celebriamo i suoi sacramenti, incontriamo una persona, lì dentro si nasconde il Signore vivo e risorto. Quindi il centro di tutta la sua, del suo messaggio naturalmente sentito anche da Pietro, testimoniato dagli apostoli, specialmente da Paolo, è una persona, è Gesù, è lì la fortuna dell'uomo e anche noi che vogliamo parlare di tante cose, fare tante cose, dovremmo capire che al centro di tutto del nostro cuore, del nostro impegno, della nostra speranza è proprio Gesù vivo e risorto. In effetti ecco lo scritto di Marco probabilmente è il più antico, il più sintetico anche e è quello anche che vorrebbe un pochettino diventare codice diciamo per chi vuole mettersi al seguito di Gesù Cristo. Cioè quest'altra cosa mi sembra determinante, Marco sembra che voglia scrivere il suo Vangelo appunto prendendo dalle parole e dalla testimonianza di Pietro per aiutare le persone che vogliono essere accompagnate a conoscere Gesù Cristo, a riconoscerlo come Messia, a incontrarlo nella fede come figlio di Dio. Direi che tutta la sua struttura anche ha un pochettino questo intendimento. Sì è molto verissimo questo perché mentre ad esempio Matteo quando Gesù compie una cosa dice sempre così era scritto nella Sacra Scrittura nell'Antico Testamento e Gesù lo realizza Marco non ne fa mai accenno perché sa che parlando specialmente i romani che erano pagani non potevano conoscere l'Antico Testamento e quindi si rivolge ai pagani del suo tempo. Ecco che allora abbiamo anche noi la fortuna oggi di poter ascoltare in quest'anno liturgico l'anno B, appunto perché c'è l'anno A con Matteo, l'anno B con Marco, l'anno C con Luca, Giovanni viene letto un po' nei tempi forti. Abbiamo la fortuna di ascoltarlo Marco perché anche noi stiamo diventando un po' pagani, non conosciamo niente dell'Antico Testamento e a volte ignoriamo anche quelle poche parole, quelle cose belle che il Signore ci ha detto e Marco ce le ripeti in una maniera precisa, sintetica, con parole, con parabole e anche con miracoli dove in questi miracoli si notano tanti di quei particolari che dicono si vede che Pietro era proprio presente perché per ricordarsi tutte queste cose si vede che le ha proprie viste e lo hanno impressionato. È interessante anche il fatto appunto di come Marco voglia evidenziare anche l'umanità di Gesù, figlio di Dio ma la sua umanità, raccogliendosi parole ma direi soprattutto raccontando fatti, possiamo chiamarli miracoli ma attenzione a usare bene questa parola, sappiamo che sono gesti attraverso i quali Gesù dice la sua storia di salvezza, la vicinanza all'uomo, il fatto che lui è venuto a guarire ma a guarire l'umanità nel suo complesso, è venuto a liberarci dal male che è il male soprattutto del peccato che è la radice poi di tutto, è venuto a dirci che lui è fonte della vita, ecco allora la chiamata alla vita. Direi che questa umanità emerge proprio bene attraverso proprio tutto quello che Gesù dice ma soprattutto attraverso quello che Gesù fa, così evidenti è soprattutto l'Evangelista Marco. È davvero, cioè in quello che il Signore veramente fa, che moltiplica il pane, che si ferma a parlare con la gente e soprattutto Marco in 16 capitoli 4 sono spesi a parlare dell'arresto, della passione, della morte e del tradimento del suo amico Pietro e della risurrezione, quindi punta sull'essenziale, ad esempio lui Marco non parla neanche del Natale o dell'infanzia di Gesù, perché dice vabbè sono cose importanti ma l'essenziale è questo, che il Signore si è fatto uomo, ti ha capito uomo, perché tu possa diventare Dio, cioè tu possa essere felice incominciando da qui a vivere quelle cose che il mio amico Pietro mi ha detto perché lui è stato con Gesù. Tra l'altro è interessante anche ovviamente il racconto di Marco, similmente con gli altri evangelisti, accompagna Gesù nel suo cammino in Galilea, lo accompagna a Gerusalemme, appunto in Giudea, i due momenti però, tu ne accendavi forti, che fanno un po' da conclusione al percorso in Galilea, che faranno da conclusione al percorso drammatico poi sulla croce in Giudea, la parola di Pietro e la parola del centurione, che direi lega con quella prima espressione, prima riga del Vangelo, figlio di Dio. Ci sono i due momenti in cui prima Pietro e poi il centurione riconoscono ciascuno dalla propria angolatura e con una propria modalità che hanno capito chi era quell'uomo Gesù Cristo e che mistero lo abitava. Sì perché anche gli apostoli diremmo fino alla risurrezione hanno capito tanto e poco di Gesù. Pietro lo capisce in Matteo, ma anche in Marco, quando a un certo punto viene anche scelto a diventare un po' il vicario di Cristo, ma nello stesso tempo lo capisce un po' alla sua maniera. Solo dopo dirà davvero che tu sei il figlio di Dio. Così anche un soldato che era abituato a eseguire gli ordini e a uccidere le persone, a giustiziarle, vedendo uno che prega, che perdona, incroce, che non bestemmia, dice costui non è un uomo, è davvero il figlio di Dio. E Marco vorrebbe portare anche tutti noi a dire guarda che io ti sto parlando di uno che non è come gli altri, è la tua speranza. Cerca di essere suo amico e magari in avvento trova un po' di tempo per stare con lui nella preghiera, nel silenzio. Magari nelle nostre parole che tutti i giorni c'è la Santa Messa, lì si rende presente. Oppure anche oggi si insiste tanto nel sapere che Gesù si nasconde anche in tante situazioni di povertà, proprio nelle persone, specialmente in quelle più in difficoltà. Quindi potremmo dire che il Vangelo di Marco vuole aiutare a vivere questa esperienza di fede progressiva in Gesù. E allora anche noi, diciamo, noi siamo già cristiani, va bene, meno male, ringraziamo Dio se abbiamo conservato e se stiamo alimentando un po' la nostra fede. Però forse qualche volta merita un pochettino di rivisitare quello che crediamo di possedere in modo troppo sicuro per poterlo approfondire e capire meglio con chi abbiamo a che fare, chi è appunto quel Gesù Cristo che ci ha annunciato e che andiamo a celebrare ancora in questo nuovo anno liturgico che è appena iniziato con l'Avvento. Quindi possiamo prendere anche l'occasione personalmente o in famiglia quest'anno magari di prendere in mano questo Vangelo di Marco che pure in tanti brani ascolteremo di domenica in domenica nella liturgia festiva perché diventi un po' un riprendere quasi da capo per un certo verso, ripercorrere il nostro cammino accanto e incontro al Signore Gesù per riconoscerlo appunto anche noi come figlio di Dio, Salvatore, fonte della nostra speranza e fonte della nostra pace. Con questo ci auguriamo quindi un buon cammino di avvento mentre ringrazio Don Giovanni della sua testimonianza e come sempre anche per tutti voi l'augurio di una buona domenica.